Con l'imminente ritorno in zona gialla riparte anche il mondo della cultura. Riaprono i musei, cinema e teatri che rispettando i protocolli di sicurezza potranno sfruttare la metà della loro capienza, posti a sedere preassegnati, dunque distanze di almeno un metro, salvo per i conviventi. Anche a Fano, dopo mesi di chiusura, il Teatro della Fortuna torna ad aprire le porte ospitando il violinista di fame internazionale Francesco Dorazio. Il concerto si svolgerà il 26 aprile dalle 19 alle ore 20 mentre i biglietti ad un prezzo simbolico di 5 euro potranno essere acquistati online su Viva Ticket oppure al botteghino domani, domenica e lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Stando alle norme anticontagio, il teatro potrà accogliere 245 persone. Eravamo pronti, siamo pronti, ci proviamo. La speranza è che poi, insomma, anche tra le mille difficoltà e con le limitazioni che ci saranno però veramente di non richiudergli più i teatri perché è stato un periodo troppo difficile ma non solo per vedere il teatro vuoto perché noi comunque dentro lavoravamo perché noi abbiamo dovuto lasciare a casa tante delle maestranze, i tecnici, le maschere, i collaboratori. Quindi veramente è stato un anno difficile, molto difficile ma ecco, questo è un settore che però non si è mai perso, ha continuato a programmare poi è servito purtroppo a poco perché abbiamo dovuto cancellare però ecco, abbiamo sempre, non solo a Fano, dico tutti i teatri si è sempre cercato di essere pronti se, come adesso, in qualche maniera ci è dato la possibilità di ripartire con dei numeri un po' piccoli per quanto riguarda il nostro teatro però intanto ripartiamo. E la Fondazione ha già programmato anche tutti gli spettacoli fino alla fine dell'anno sia per la sinfonica che per la prose e la lirica prevedendo diverse modalità di svolgimento, dallo streaming alla capienza ridotta. Intanto lunedì, ha commentato il presidente dell'orchestra sinfonica Rossini, Saul Salucci siamo orgogliosi di ricominciare con un artista straordinario. Ha accolto il nostro invito Francesco Dorazio, uno dei violinisti più importanti al mondo vincitore del premio Abbiati ed è succeduto a Salvatore Accardo e sarà con noi per un concerto di ripartenza all'insegna di Mozart e Tartini quindi due grandi compositori, uno straordinario solista che è di fatto un abbasciatore italiano nel mondo e quindi siamo davvero contenti di questo concerto di ripartenza per avere questo grande solista e per i nostri professori che torneranno a suonare con i propri spettatori in presenza.